Oggi parleremo della poliposi nasale, che è la più grave patologia benigna del naso. Perché? Perché per antonomasia è la patologia che resiste più a trattamenti sia farmacologici che chirurgici ed inoltre ha un'alta probabilità di recidiva della patologia. Il paziente perviene all'osservazione dell'otorino laringoiadro, ovviamente riferendo istruzione nasale, quindi difficoltà respiratoria nasale, rinorrea, cefalea, anosmia, cioè la riduzione dell'olfatto, associata all'ipogiosia, cioè la riduzione del gusto. Poi vedremo perché si verificano questi due sintomi nelle successive slide. E soprattutto problemi bronchiali, quindi asma bronchiale e sindrome rinobronchiale. Vi è una triade caratteristica sintomatologica, che è la triade di Uidal, che è caratterizzata appunto dalla presenza della poliposi nasale nel paziente, associata ad un'intolleranza o ad un'allergia ai FANS, precursori all'aspirina, quindi all'acido acetil salicilico, precursore dei FANS e asma. Le cause della poliposi nasale possono essere molteplici, quindi l'inalazione di sostanze irritanti, malattie genetiche, per esempio la mucoviscidosi o fibrosi cistica, la sindrome di Kartagner, che sono delle patologie genetiche caratterizzate da alterazione del trasporto proprio muco-ciliare dell'epitelio nasale. Alterazioni immunologiche sicuramente, vi sono tantissime patologie autoimmunitarie in cui si riscontra la poliposi nasale associata ad altra sintomatologia. Riniti ovviamente allergiche, riniti non allergiche, l'ultima scoperta nell'ultimo appunto decennio l'otorinolaringoiatra con il supporto appunto della citologia nasale, qui vedete un microscopio elettronico, ha potuto far diagnosi di riniti non allergiche a cellularità, ne parleremo in seguito nelle successive slide, infezioni batteriche, virus e poi due alterazioni metaboliche importantissime da prendere ben in considerazione. A tal proposito vi è accanto a me la dottoressa Maria Teresa D'Agostino, nutrizionista, che vi parlerà appunto dell'alterazione del metabolismo dell'acido arachidonico e dell'acido acetilsalicilico. Queste cause a livello, come potete vedere qui nell'immagine del naso, determina un'infiammazione cronica, infiammazione cronica significa riscontrare nella mucosa nasale, come potete vedere qui da immagine, delle proteine infiammatorie denominate interleuchina 4 e interleuchina 5. Queste due proteine caratteristiche dell'infiammazione cronica attivano l'eosinofilo, che è un globulo bianco particolare, e attivando l'eosinofilo si ha il rilascio di alcuni mediatori, tra cui l'istamina, che a livello della mucosa nasale induce appunto l'infiammazione cronica, l'essutazione sottomucosa, ossia l'edema, e la depolimerizzazione dell'acido ialluronico. La poliposi nasale, questa slide è interessante, perché ci fa vedere il sito di insorgenza, il sito di insorgenza è l'etmoide, uno dei seni paranasali, proprio per la sua posizione anatomica, e quindi l'esposizione all'inalazione di sostanze, come abbiamo detto, irritanti, batteri, virus e quant'altro, dall'etmoide, in particolar modo dalla bulla etmoidale, la poliposi nasale si estenderà attraverso l'ostio dell'etmoide in fossa nasale, ostruendo completamente le fosse nasali ed estendendosi poi agli altri seni paranasali. Volevo farvi vedere questa immagine per farvi capire la correlazione tra poliposi nasale e iposmia. L'etmoide, cioè il sito di insorgenza della poliposi nasale, si trova presto a poco a questo livello. Come potete vedere, al ridosso dell'etmoide vi è la mucosa olfattiva, quindi la formazione di polipi nasali, che non sono altro che neoformazioni gelatinose di colorito biancastro e giallastro, determinano compressione sulla mucosa olfattiva e di conseguenza sul nervo olfattivo, determinando quindi la riduzione o l'azzeramento dell'olfatto. La diagnosi è importantissima in questi pazienti. Ovviamente il paziente viene visitato in toto, in un primo step, successivamente si procederà con un'endoscopia nasale. Adesso vi farò vedere due casi di endoscopia nasale in pazienti con poliposi nasale massiva recidivante. si procederà poi a rilevare le cause. Io voglio evidenziare questo concetto che è fondamentale. Bisogna riscontrare la causa che determina la patologia per poter fare terapia mirata, viceversa la poliposi nasale, così come altre patologie del naso, per esempio l'ipertrofia dei turbinati, non verrà mai sconfitta e il paziente non troverà giovamento persistente dai trattamenti chirurgici o farmacologici. Nel paziente è sottoposto a pre-test, quindi avvisi allergologici e pre-test per tutti gli allergeni, inalanti, alimenti e patch test, proprio per fare diagnosi completa a 360 gradi in campo allergologico. Se vi è negatività di questi test, si passa alla citologia nasale. La citologia nasale si esegue con una curretta e un cucchiaino di plastica, come potete vedere, che ci permette di prelevare la parte superficiale del segreto nasale. Una volta prelevato la parte superficiale del segreto nasale, si trasporta il materiale prelevato su un vetrino portoggetti e si procede alla colorazione, questa è una colorazione rapida, dopodiché si appone una goccia di resina particolare e si appone sul vetrino portoggetti e un vetrino coprioggetti in modo da procedere poi alla lettura del vetrino col microscopio elettronico. Questo ci permette di andare a studiare la cellularità del segreto nasale nei pazienti con poliposi nasale, ma anche con ipertrofia dei turbinati, proprio per fare una diagnosi differenziale e, come ripeto, poter arrivare ad una terapia ammirata. Vi sono diversi tipi di rinite non allergica a cellularità associata alla poliposi nasale in relazione al citotipo prevalente di riscontro. Quindi si legge questo vetrino per campi, si divide in campi e si procede a stilare un rinocitogramma contando cellula per cellula e quindi in relazione, abbiamo detto, al citotipo prevalente possiamo fare diagnosi di rinite non allergica eosinofila, di rinite non allergica mastocitaria, di rinite non allergica neutrofila. Una breve considerazione, la rinite non allergica eosinofila e mastocitaria predispongono di molto in pazienti che pervengono alla mia osservazione per una banale rinite in cui io eseguo la citologia nasale predispongono proprio alla poliposi nasale, mentre la rinite non allergica neutrofila si riscontra più che altro nelle patologie autoimmunitarie o di natura infettivologica. Procedendo ovviamente per poter dare l'indicazione al paziente in ambito terapeutico che sia di natura farmacologica o chirurgica, l'otorino laringoiatra ha necessariamente bisogno di far sottoporre il paziente ad un attacco del massiccio facciale, ormai un esame di routine che permette di capire l'estensione della patologia. Procedendo, di questo già ne abbiamo parlato, però vi attenziono che tra le riniti non allergiche cellulari, tre quarti di queste riniti non allergiche sono a cellularità neutrofila, mentre un quarto a cellularità eosinofile o mast cellule. Un concetto fondamentale molto importante, la citologia oggi ci permette di formulare un grading clinico di probabilità di recidiva della patologia che viene indicato come indice prognostico di recidiva della poliposi nasale. Una chicca particolare, anche sull'iPhone esiste un'app in cui si può procedere ad eseguire l'indice prognostico di recidiva della poliposi nasale, tenendo in considerazione alcuni aspetti, ossia se il paziente è intollerante o allergico all'acido acetilsalicilico, se ha una positività o meno per asma o sindrome rinobronchiale, se è affetto da allergie respiratorie alimentari o da contatto e inoltre si considera il citotipo prevalente al rinocitogramma, quindi in ambito della citologia nasale. Considerando questi aspetti, noi possiamo avere un indice prognostico di recidiva della poliposi nasale che può essere basso, medio ed alto. Questo indice prognostico di recidiva della poliposi nasale è fondamentale sia per eseguire una terapia mirata, per programmare i follow up, cioè i controlli ben cadenziati e per informare il paziente riguardo la prognosi della sua patologia in modo da non creare false illusioni di guarigione. Un altro aspetto fondamentale da considerare sempre per poter eseguire una terapia mirata è l'esame istologico, l'aspetto anatomopatologico, poiché quando si sottopone il paziente ad intervento chirurgico, la neoformazione che viene asportata viene inviata all'anatomopatologo in modo da farla analizzare e l'anatomopatologo ci può dare una risposta di polipo ed ematoso con scarsa cellularità o di polipo neutrofilo che si riscontra soprattutto nelle patologie autoimmunitarie. Quindi a quel punto dobbiamo andare a ricercare se vi sono altri sintomi e segni di patologia autoimmunitaria oppure un polipo e osinofilo che è caratteristico della patologia allergologica. La terapia per quanto mi riguarda, cioè per quanto riguarda l'otorinolaringoiatra si distingue in terapia farmacologica e terapia chirurgica. Per quanto riguarda la terapia farmacologica oggi esistono tantissimi protocolli farmacologici sia locali che sistemiche. La terapia locale solitamente si esegue con farmaci antidemigeni e soprattutto durante i follow up programmati. Un altro aspetto fondamentale prima di arrivare alla terapia chirurgica che oggi è una terapia chirurgica endoscopica micro invasiva eseguita tramite laser che ci permette di vaporizzare il polipo in se stesso o tramite l'utilizzo di shiver. Comunque sono tutte tecniche e strumenti che ci permettono una chirurgia molto rapida in dolore ambulatoriale e che ci permette di riportare il paziente alle proprie attività lavorative, ludiche nel più breve tempo possibile. Prima di parlarvi delle terapie che vi ho accennato, volevo passare la parola alla dottoressa Maria Teresa D'Agostino perché vi parlerà ed è fondamentale perché abbiamo notato che molti specialisti trattano la poliposi nasale a livello farmacologico e chirurgico ma non attenzionano le cause scatenanti, cioè non curano le cause scatenanti questa patologia. Quindi vorrei passare la parola alla dottoressa D'Agostino proprio per parlarvi della terapia che riguarda l'alterazione dell'acido acetilsalicilico e dell'acido arachidonico. Come ampiamente spiegato dalla dottoressa Caminiti la poliposi nasale è una malattia multifattoriale e in quanto tale sono diversi i fattori che intervengono nella anomala reazione della mucosa naso-sinusale. In particolar modo tra i vari fattori ovviamente per ciò che mi riguarda vi sono ovviamente dei fattori alimentari. Nell'elenco delle cause nutrizionali dopo svariate ricerche scientifiche si includono ad oggi la violazione del corretto metabolismo dell'acido arachidonico e l'allergia dell'acido all'acido acetilsalicilico. È importante ricordare che l'acido arachidonico può essere sintetizzato a partire già da altri fattori endogeni e in particolar modo cito l'acido linoleico perché è maggiormente diffuso nella nostra alimentazione. Quindi possiamo definire come l'acido arachidonico a livello alimentare è presente in alimenti molto comuni come la carne, il pesce e le uova mentre l'acido acetilsalicilico si presenta nei conservanti alimentari, nelle spezie ma anche in diversa frutta e verdura. Proprio per questo motivo al momento in cui si interviene da un punto di vista nutrizionale nella cura della poliposi nasale si deve cambiare proprio il proprio stile di vita, in particolar modo ovviamente quello alimentare. In che senso? Al momento in cui giunge il paziente a cui appunto è stato diagnosticata una condizione di poliposi nasale ciò che viene fatto è un piano alimentare che serve proprio per il recupero della tolleranza immunologica che consentirà al paziente di ridurre l'infiammazione a livello locale. Nel caso specifico per l'acido arachidonico e dell'acido acetilsalicilico si farà un piano alimentare in cui vengono eliminate queste sostanze quindi si valutano i cibi in cui l'acido arachidonico e l'acido acetilsalicilico non sono presenti. Se non è possibile fare un'esclusione totale di certo si deve controllare al massimo l'assunzione quindi parliamo che al massimo si possono assumere 0,064 mg giornalieri. Questa condizione è fondamentale perché prima di tutto consente di mantenere i risultati che sono stati ottenuti tramite terapia farmacologica o comunque chirurgica o d'entrambe. Di certo le recidive come già precedentemente detto dalla dottoressa sono normali ma con un opportuno piano alimentare le recidive si presentano da un punto di vista temporale molto più distanti e non solo più distanti ma anche più lievi. Grazie alla dottoressa D'Agostino ci ha permesso quindi di capire che l'aspetto nutrizionale è fondamentale nel controllo della patologia in sé ma soprattutto per azzerare o ridurre le recidive della patologia. Un breve accenno riguarda un'altra terapia innovativa che si esegue in pazienti allergici che però non vengono controllati né dalla terapia farmacologica né dalla immunoterapia specifica e appunto la terapia monoclonale quindi solo questi pazienti ne possono soffrire. Riguardo il trattamento mini invasivo chirurgico vi volevo far vedere due video di due pazienti affetti da poliposi nasale massiva sottoposti ad interventi chirurgici il primo per ben nove volte e il secondo per 12 volte. Questo è il primo paziente di sesso maschile media età come potete vedere dal video poliposi nasale con perforazione settale esito di pregressi interventi chirurgici che ostruiscono l'intera fossa nasale e la ostruiscono bilateralmente come potete vedere maggiormente dal lato sinistro del paziente. Questo paziente è stato trattato da me medesima con laser a diodi come abbiamo detto il laser vaporizza il polipo nasale e poi tramite aspirazione avviene la disostruzione completa come potete vedere pulito della fossa nasale visibili punti di repere completamente pulito successivamente sottoporrò il paziente a chiusura della perforazione nasale tramite un'altra un'altra terapia innovativa che è la PRP. Questo è il secondo paziente sesso maschile operato per ben 12 volte affetto da allergia all'aciacetilsalicilico, asmatico cronico e ovviamente affetto da poliposi massiva resistente ai trattamenti anti allergici comuni, resistente ai trattamenti per l'allergia quindi all'immunoterapia specifica ed è un paziente che oltre ad essere controllato da me tramite la chirurgia mini invasiva come potete vedere è pieno e mini invasiva viene sottoposto a terapia monoclonale una terapia sperimentale questo è il primo quindi evidente presenza consanguinamento delle foste nasali per l'importante infiammazione cronica quindi il prima e il dopo nel senso dopo essere stato trattato anche questo con laser a diodi con un buon controllo della sintomatologia e della patologia come vedete è molto più pulito e le foste nasali sono disostruite anche in questo caso l'altro anche in questo caso è abbastanza disostruito in conclusione quello che io vorrei dire che il paziente che perviene alla nostra osservazione per la poliposi nasale non viene semplicemente trattato immediatamente con i soliti farmaci cortisonici locali antidemigini locali o chirurgicamente ma viene studiato nella sua interezza bisogna riscontrare la causa della poliposi nasale le cause della poliposi nasale più cause si riscontrano più si riduce l'infiammazione cronica più probabilità di meno recidiva o di azzeramento addirittura della patologia si ha quindi i pazienti che pervengono alla nostra osservazione faranno con noi un percorso diagnostico e terapeutico anche nel tempo perché dopo essere stato operato il paziente verrà introdotto in un protocollo di follow up e gestito ogni 3-4 mesi applicando delle terapie somministrando delle terapie molto innovative proprio nella zona in cui nasce il polipo nasale quindi abbiamo detto a livello etmoidale verrà quindi seguito da me nella sua interezza sia in ambito allergologico o se non è allergico abbiamo detto con altri protocolli mirati sia dalla dottoressa maria teresa d'agostino che mi affianca per cercare di controllare i disturbi legati abbiamo detto all'alterazione dell'acido acidil salicidico e arachidonico sempre nella visione di ridurre l'infiammazione cronica e ridurre quindi la recidiva della patologia grazie